26 luglio 2015, Terzo Rocella Fit Walking, un appuntamento da non perdere, un percorso suggestivo tra strade cittadine e panorami mozzafiato all'insegna della solidarietà. Iscriviti subito. Camminare fa bene e a far del bene camminando sia una marcia in più. Il 26 luglio ti aspetta un pomeriggio denso di emozioni. Camminiamo insieme. Iscriviti subito al Terzo Rocella Fit Walking. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente e nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare. Questo da che va, questo da che viene che va, questo da che viene che va. Io penso positivo, ma non vuol dire che non ci vedo Io penso positivo, in quanto credo